Ciao a tutti ragazzi, siamo in sala, come vedete tre giocatori prima dello scoppio della bolla, quindi zona caldissima per quanto riguarda il torneo. Come vedete 165.000 leverage stack in questo momento con i bui che sono 2.400 con l'ante a 400. Andiamo anche a dare uno sguardo alla sala, ovviamente l'action ai tavoli si è leggermente frizzata. Le giocate ovviamente sono ricche di tensione e quindi ovviamente ne risente. Andiamo qui al tavolo con Alessandro Meoni a lungo C-Bleeder quest'oggi, andiamo a seguire questo piatto che è arrivato in questo momento al river. Andiamo a inquadrare il board, jack di quadri, 4 fiori, 4 picche, asso picche, 9 di cuori. Checcato il turn, andiamo ora a vedere come si svilupperà la mano al river. C'è una bet dell'avversario di Meoni, 18.500, sembra che Meoni sia intenzionato a chiamare. che baci vedete qui al tavolo proprio alla sinistra di Meoni. e per lui oggi pochi spot favorevoli, poche mani viste e quindi di conseguenza anche poca action. Ancora non c'è una decisione per quanto riguarda la mano, anzi c'è proprio in questo momento il call. l'avversario mostra asso 5 e quindi si aggiudica il piatto.